Siamo entrati, siamo nella base degli Stati Uniti, nel cuore della Sardegna, sul monte Limbara, una base militare sconosciuta ai più. Queste sono le parabole piazzate qui nel cuore dei monti della Sardegna, totalmente abbandonati. I vecchi ruderi di questa base sistemata nel cuore di una delle montagne più alte della Sardegna. Immagini rubate a un cancello sbarrato ma che è il preludio in una terra che è stata colonizzata dalle basi militari. Da qui venivano controllati i lanci di tutti i missili sull'area del Mediterraneo, ma da qui, secondo le cronache militari, potevano essere anche controllati gli invii delle testate nucleari.